E ragazzi, come va? Io sono Fiorinichi E io sono Steph, benvenuti in questo nuovo vlog E andiamo subito a salutare i nostri eroi del giorno Che come ogni vlog, sono tantissimi E partiamo subito con VincentSCH, Gaia, Michela, Alessandra01, SaraYoutube e Jacopo Martina, Lucastar, Carlo, Imperia, Madacheco85 e Matteo E ancora Letizia Cometti, Francesco, SuperAnna, Lucy, Fredrik e Flavia Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione E cosa andremo a fare in questo vlog? Abbiamo trovato un quiz carinissimo da fare tutti assieme L'abbiamo visto qualche giorno fa da PewDiePie E ci è sembrato troppo troppo carino da portare Lo potrete fare anche voi, quindi preparatevi Ma prima di tutto ovviamente abbiamo alcune cose da dire Allora inizio io, vuoi inizio? No no, inizia, ti lascio da prima Ormai mi ci sono troppo infogata, quindi continua Allora, prima di tutto vogliamo ringraziare tantissimo Per le immagini che ci avete inviato su Instagram Le abbiamo apprezzate davvero tanto Ci hanno strappato un sorriso Io le ho trovate tutte troppo troppo carine Ed è davvero bellissimo vedere che ci date tanto tanto amore Tanto supporto anche con questi piccoli gesti Ed è davvero bellissimo Esattamente, avere questo contatto diretto con voi Tramite quel social network è bellissimo Infatti ragazzi è quello che stiamo cercando di usare di più Cerchiamo di farci qualche foto molto brutta Perché siamo bruttissimi in foto, non c'è niente da fare No, siamo bruttissimi anche nella vita Siccome non siamo abituati a farci foto Ogni volta per fare una foto su Instagram ci pensiamo tutto il giorno Cioè, siamo tutto il giorno lì che pensiamo Ma cosa ci facciamo? Che foto facciamo? Dai, quando la facciamo? Un casino incredibile Siamo le classiche persone che non si vogliono mai fare foto Però poi capite, è un controsenso il fatto che però facciamo video È un po' strano Però ci stiamo impegnando per loro per migliorare con questa cosa Quindi seguiteci su Instagram E ovviamente continuate a farci foto, meme, quello che volete Perché è davvero bellissimo vederlo tutti i giorni Abbiamo notato che nei commenti in questi ultimi giorni Ci state facendo diverse domande Quindi abbiamo pensato Il prossimo vlog facciamo un fuck Così ci chierete un pochettino di cose Vi togliete qualche dubbio su di noi E noi ci divertiamo a rispondere a queste domande Ad esempio, come fate a essere così brutti? Ma no, ma non se lo chiede nessuno questo Io tanto me lo chiedo No, non è vero Vedono la mia faccia bellissima e radiosa E non lo pensa nessuno Non credo Comunque sì, ci è sembrata un'altra idea carina Un altro modo per interagire insomma E conoscerci anche un pochettino meglio Visto che sì, ci fanno davvero tante domande Quindi perché non metterle in un vlog Dato che tanto stiamo sempre parlando Tanto vuole raccontare anche qualcosa di noi, no? Voglio però giusto specificare una cosa ragazzi Preferiamo le domande tipo Che musica vi piace? Quali sono i vostri giochi preferiti? I vostri film preferiti? Insomma, domande di questo genere Rispetto a dove vivete? Quanti anni avete? Questo genere di domande Che diciamo sono un po' noiose E soprattutto sono molto dirette Cioè, tot anni e finisce lì Insomma, una cosa un pochettino più divertente Così magari anche voi potete dire Le vostre cose preferite Ed è tutto un pochettino più interattivo E divertente Sì esatto, cerchiamo di renderlo un po' più Tutti assieme Piuttosto che solo noi che rispondiamo Che sapete non ci piacciono le cose A senso unico Chiamiamole così Comunque siamo pronti? Possiamo iniziare col quiz? Sì, possiamo iniziare Sei pronta? Io non vedo l'ora Io non vedo l'ora Allora, ragazzi ve lo dico Come abbiamo detto all'inizio L'abbiamo visto in un video di PewDiePie Io l'ho solo visto Ma non l'ho mai provato E non vedevo l'ora Perché sapete quanto adoro queste cose Voglio spiegare al volo come funziona Ah, giusto, giusto Perché, vabbè, è tutto in inglese Ma comunque è molto immediato No, no, è immediatissimo Allora Si capisce tranquillamente Funziona così Ci metterà ogni volta due scelte E noi dovremmo dire Quale delle due è stata cercata di più su Google Nell'ultimo mese Qual è la più googlata Esatto Insomma, detto molto più semplicemente Sarà questo Iniziamo Pronto Ok Secondo me perderemo Ah, e voglio dire una cosa Prima di iniziare Ok Praticamente se si sbaglia una risposta Il gioco finisce Giusto Quindi poi vi lasceremo anche il link in descrizione E vediamo se riuscite a fare un punteggio più alto del nostro Ovviamente ci riusciranno Ovviamente Allora, qua iniziamo con due film Prevart Sinceramente Amnesty non l'ho mai visto Ok Quindi Prevart è famosissimo Prevart è famosissimo Quindi io direi che Amnesty è più basso Ok La prima è andata La prima era facile Allora Ovviamente Marvel è più cercato Più alto Ovviamente Perfetto Ok Per ora sta andando tutto facile Più basso Denti bianchi Aspetta Però la gente cerca molto le cose Per fare i denti più bianchi Esatto Però secondo me Contando che Marvel sarà cercato Anche da un pubblico molto giovane Non penso che un ragazzino Poi si metta a cercare rimedi Per i denti bianchi Quindi direi che Questa è rischiosa Però proviamo così Ok Ok Meno male Stavamo facendo Stavamo facendo sacchi problemi Ti dico la verità Guarda mi verrebbe voglia di lanciare tutto Vai di nuovo Non possiamo chiudere con un punteggio Concentrati Andiamo Allora Toy Story contro i denti bianchi Toy Story più alto No è facile Perché sappiamo quanto l'hanno cercato i denti bianchi Mi ha fatto spaventare per un attimo Madonna di più Più cercata Sì Dai per forza Ok Vai un'altra Cos'è Boca Giulia? È una squadra brasiliana Di meno Di meno Però è famosa Tu la conosci? È tra le squadre brasiliane Cioè Fai del Sud America Forse è la squadra più forte che esiste Ma non è vero Mi sembra gli altri No no Sono serio Più basso Dai Più basso Proviamo più basso Ok Eh dai Questa era un po' ovvia Madonna è famosa in tutto il mondo Cos'è il minimum wage? Non lo so Qualc'è più a che fare con le monete? Con la moneta più basso Visto che non lo sappiamo neanche Beh scusa Tu devi ragionare così Se non lo sappiamo noi Gli altri non lo cercheranno Ma è stato un pareggio Non so se hai notato 450.000 450.000 Tondissimi Athletics di più Lo spero Soprattutto in questo momento Che ci sono le olimpiadi Pareggio di nuovo Non ci posso credere Nettuno Allora Quei pianeti Io sinceramente non lo so Non lo so È troppo un'iconità Boh Mettiamo più alto Dato che Saturno era più alto Vedi Ecco qua Siamo troppo scarsi Guarda c'è uno che balla No non c'è niente da ballare Perché il punteggio Dobbiamo arrivare almeno a 10 Ok Almeno a 10 dai Per non fare una figuraccia Ma è possibile che ogni volta che siamo quasi al 10 ci sono le più difficili Siamo alla 9 e abbiamo il Pink Floyd contro Forrest Gump Questo è difficilissimo perché sono tutti e due molto famosi Io sono quasi sicuro che sia meno cercato Forrest Gump Perché comunque è abbastanza vecchio ormai Mentre i Pink Floyd sono ancora in attività Lo so Lo so Secondo me è meno Questa volta fai tu Fai tu E infatti Io indovino Andiamo avanti Ok Siamo alla 10 Lavanderia di meno Di meno per forza 10 Pensa Tutte le persone che hanno bisogno di una lavanderia la cercano su Google per vedere La più vicina della loro città È difficile Non credo Ma scusate che si cerca Scusate non ti puoi fare Cioè ma proprio Nenche parlarne È colpa mia Allora proviamo a farne in un modo un po' più veloce Chris Brown contro Mickey Mouse Perché non posso rispondere? Non lo so Abbiamo bugato anche questo New York più alta New York più alta Anche secondo me Non ne sono sicura però No Cioè ma non è possibile che Shakira venga cercata più di New York Beh dai Ma chierciamo Questa lo sappiamo perché c'è già capitata la Intel Quindi sappiamo quanto è stata cercata Mi ha fatto di nuovo paura Kuala Lampur Questo vedi non so io dove si trova Non mi ricordo dove si trova ma è cercata a meno senza sembra di dubbio Ok Ok questa qua la La tartarughe di più No è la barriera corallina eh non vorrei dire Lo so l'avevo intuito Più alto Vai vai Non l'avrei mai detto così alto Ne anch'io I Flintstone di meno I Flintstone di meno perché ormai sono adattati E beh che anche i Flintstone ormai ragiono così Se è vecchio e basso Non lo conosco Di più di più di più è un giocatore di golf È famosissimo non so come fai a non conoscerlo Ma sei un bugiardo Di più di più basso Ma che bugiardo ma sei pazzo Di più Batman Guarda che è vecchio secondo me di meno Non è vecchio Mamma mia Allora l'albero genealogico è più alto Ma non è Secondo quale logica Chiunque cerca il proprio albero genealogico Ma quando mai l'hai cercato nella vita Io mai ma lo fa un sacco di gente Ma non è vero te lo sei inventato Guarda quello nel sottosfondo che cadina qua sei tu Appena ti svegli cadina una pozzanghera e piangi Sono io che vado in bici Oppure tu dato che non ci sei andare in bici Non devi rivelarlo Tu non Sei grande e grosso Non sei andare in bici Hai eliminato una domanda del fuck Magari uno avrebbe chiesto Steph sei andare in bici Adesso lo stanno già Non te lo chiede nessuno Non te lo chiede nessuno Ok con i quiz ci fermiamo così Fateci sapere nei commenti Se fatevi di noi Credo tutti Adesso tutti faranno 50 Oppure 30 Siamo andati davvero male Ma la pena abbiamo superato il dieci Ancino dieci giusto abbiamo fatto No forse era undici Non mi ricordo No l'undicesimo abbiamo sbagliato Quindi abbiamo fatto dieci Il nostro massimo è dieci Siamo una squadra formidabile Poteci sapere qual è il vostro punteggio Prima di salutarvi vogliamo dirvi giusto un'altra cosettina Ovvero Minecraft e Roblox Perché ci state chiedendo un sacco Minecraft È pronto La prossima settimana portiamo alla prima puntata E come vi abbiamo detto nello scorso vlog Sarà una serie un po' particolare Molto interattiva con voi Andremo a costruire delle cose che voi ci proporrete Appunto sarà divertente E sarà molto divertente Soprattutto vedere quanto siamo scarsi a costruire Però Quella è la cosa migliore Miglioreremo per voi Per fare delle cose sempre più carine Quindi dateci fiducia con Minecraft Perché faremo qualcosa secondo me di molto carino E invece con Roblox 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 vi vogliamo fare una domanda Conoscete il gioco Perché in Italia è portato poco fuori ragazzi È famosissimo A noi piace tantissimo Guardiamo parecchi video di quel gioco No 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 aspetta aspetta C'è anche da dire che io ogni volta che entro su Roblox Ok Ci rimango una cosa come due tre ore tra tutti i minigames E c'è lui che mi insulta perché mi dice Smettila di giocare Smettila di giocare Io non riesco proprio a smettere Mi piace tantissimo E mi piacerebbe davvero tanto portarlo nel canale Esattamente Quindi fateci sapere se volete vederlo Speriamo di sì Per questo vlog è tutto Ci vediamo domani Ciao 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 Ciao